La sconfitta più bella, la Solbiatese cade a Lignano-Sabbiadoro ma conquista comunque l'accesso alle semifinali di Coppa Italia Eccellenza. Alteghil, stadio bellissimo, casa del Pordenone in Serie B fino allo scorso anno, il Brian Lignano vince 1-0 grazie alla magia su punizione di Ciriello, ma alla fine la formazione di casa deve alzare bandiera bianca. Esultano i ragazzi di Andrea Rota che avrebbero potuto già chiudere i giochi nel primo tempo, viste le occasioni capitate a Torraca e a Colombo, oppure nel finale quando sempre Colombo, Mondoni e l'Abiso hanno avuto il pallone del pareggio. Poco male, visto il 2-0 del Chinetti, la Solbiatese strappa il pass per le semifinali, dove affronterà gli Umbri dell'Atletico BMG, mentre nell'altra semifinale i siciliani del Paternò affronteranno gli abruzzesi del città di Teramo. Per la Solbiatese, gara d'andata mercoledì 20 marzo a Massa Martana, il Turner azzurro è pronto per un altro a solo.